A me? No, ha messo lo studio mob... UHHHH! Chiedessa mobilo, mamma! Chiedi su Wordon Ci ha votato qua nessuno C'è un altro qua da me E ora, soldato Non ha capito su soldo ho letto 40 persone in lobby mi sono spaventato ragazzi questa lobby è di botte porco due ogni volta ogni volta che handy dice è una lobby di botte buoni la bobbina la gente qua a me hai entrato uno pure si 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 tiro morti tutti altrimenti altro e non l'ho è bistortissimo ma è l'obbistortissima ragazzi l'obbistortissimo storta come me bloccato bloccato te lo fai te lo fai bloccato arrivo arrivo bloccato che cazzo vuol dire è la testa è la testa cazzo arrivo c'è la testa storta assista c'è la macchina di zio babele intanto dietro intanto dietro c'è tutto un furtivo alla macchina la macchina fatto ma che è ma che cosa è ma che cazzo è ragazzi ma che è mi sento uno streamer americano esatto esatto è bello è bello è bello american american lobby in bicicletta america esatto esatto davanti a noi tre qua dentro ho fatto un altro soressabile boy the rest bro you know what they mean lo soggetto è qua dietro dai dai nascia buschetta olio e sale è uno qua dietro la casa ecco dentro dentro oh che bello il calcolo zoom variabile raga car di merda ma che è taggo su un attimo a vedere se c'è qualcosa sì so takie 4 so veloce ma questo gli arriva una stecca mo ma e te lo uso sinistra sinistra scusate prima volta perché le scuole voi e folks non mi importa se non mi importa se due per due patrini due qua da me due qua da me due qua da me sono scesi queste sono due sopra due sopra potenti oddio santo oddio mio io sgrana più non posso io sgrano c'è un soldato non arrivo mamma mia zanx se uno scamone ma esternale a meno tre me ne stilate ma quest'altro è piccato manito sono io ho sparato proprio uno è morto oi baby guarda come vado guarda come vado mamma sta partendo se hanno proprio rotto il cazzo guarda ma che cazzo vabbè vaffanculo la hit bianca cose cazzo dentro dove stavamo noi sale sale oppela ci sono perché è l'unica che farà questo oggi esatto attimo necessario accado lasciato accado c'è un altro più giù non so signore sono morti tutti ma è 3v1 vorremmo arrestarlo I don't know eccolo sta là eh sta là eh ooooh cosa ma che aggancia è mosca matta no 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 andiamo mosca matta baby bro ma c'è raga altre 88 ragazzi altre 88 kill raga altre 88 dai ok ormai siamo in streak se perdiamo perdiamo eh non ci voglio credere non l'ha preso Andy non c'era il tuo nome sopra c'era il nome di api sopra l'ho mi ha ammazzato ddv john mash dai fatti valere sono andato push 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 no 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 questo si è visto quattro torri dice ma che cazzo è ma qua ma come che ero buone bro io ho spavuto 60 è sopra è sopra qui c'è un'altra pure c'è un'altra pure qua atterrado 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 oh adeimer no non sta ubriaco no per assistenza della scioppa davanti a me oh 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 mio dio ma fammi uno sotto più sotto più sotto più sotto c'è fatto no c'è un'altra a sinistra un'altra a sinistra uno è cracker due cracker uno down uno down via 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 ha non esatto a sinistra 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 si 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 ha giaccato poverino wii la madonna la madosca ma ma madonna santa ma perché il culone ma guarda dove ho fatto resta uno sopra porca madosca lorida manciata ma ha rubato le armi ma questo ma ha rubato le armi lo vado matti lo vado matti ma è pazzo è pazzo uno che ti arriva uno ti arriva da fuori uno ti arriva da fuori uno ti arriva da fuori oh no due vivi uno è scappato fuori ti arriva uno destra destra occhio c'è tempo c'è tempo no ma altro team altro team altro team ah no ma guarda no era il sesto ce l'avevo un centimetro raga ma guarda ce l'avevo dietro dai che cazzo ce l'avevo un centimetro eh nice nice ho sto cecchino che non so dove sta che mi continua guarda dietro mi spero ci c'è tempo mi sa dietro cecchino dietro cecchino è un pazzo che forza bro per forza era per forza dove 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 al blu al blu ecco sopra noi sopra noi sopra noi sopra avanti l'altro sinistra sopra no ha messo lo scudo mobili oh via adesso mobili 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 ma e nì non hai trovato eccolo 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 c'è un altro c'è un altro più sotto è tutta team sono tenele caprette vanno busciati ho pengato non so come dietro un muro ho pengato che cosa vuol dire hai fatti gli altri tu oh guarda me guarda me mi ha fatto lo d'autom vanno sbragato Andy vendichiamo Andy questo era bravo questo era bravo l'ultimo l'ultimo crackato uno crackato l'ultimo questo c'è restato un altro ho fatto un altro ho fatto un altro ho fatto un altro ho tirato ho tirato sì cazzo 3 su 3 80 kill 88 kill un'altra volta e dai 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 altro 88 mi stanno dicendo qualcosa su mia madre ho capito solo ma detto che è una buona donna sempre così sempre così sempre sulle mamme è facile l'insulto sulle mamme